vi diamo il benvenuto al programma cristiano dai nostri culti registrazione di una predicazione della parola di dio effettuata presso la chiesa cristiana evangelica assemblee di dio in italia di prizzi palermo vi chiedo di aprire con me la bibbia nel libro del profeta geremia capitolo 31 libro del profeta geremia capitolo 31 leggeremo insieme dal versetto 15 gloria al signore ripeto libro del profeta geremia capitolo 31 dal versetto 15 addio la gloria così parla il signore si è udita una voce a rama un lamento un pianto amaro rachele piange i suoi figli lei rifiuta di essere consolata dei suoi figli perché non sono più così parla il signore trattieni la tua voce dal piangere i tuoi occhi dal versare lacrime poiché l'opera tua sarà ricompensata dice il signore essi ritorneranno dal paese del nemico c'è speranza per il tuo avvenire dice il signore i tuoi figli ritorneranno entro le loro frontiere io odo odo e fraimi che si rammarica tu mi hai punito come un vitello non domato convertimi e io mi convertirò poiché tu sei il signore il mio dio dopo che mi sono sviato io mi sono pentito dopo che ho riconosciuto il mio stato mi sono battuto l'anca io sono coperto di vergogna confuso perché porto l'infamia della mia giovinezza e fraim e dunque per me un figlio così caro un figlio prediletto da quando io parlo contro di lui è più vivo e continuo il ricordo che ne ho perciò le mie viscere si commuovono per lui e io certo ne avrò pietà dice il signore metti delle pietre miliari fatti dei pali indicatori poni benmente alla strada alla via che hai seguita ritorna vergine di israele torna a queste città che sono tue fino a quando te ne andrai vagabonda figlia infedele poiché il signore crea una cosa nuova sulla terra la donna che corteggia l'uomo fin qui la lettura della parola del signore versetto 21 metti delle pietre miliari fatti dei pali indicatori poni benmente alla strada alla via che hai seguita ritorna vergine di israele torna a queste città che sono tue fino a quando te ne andrai vagabonda figlia infedele metti delle pietre miliari fatti dei pali indicatori dio ci aiuti a registrare questa esortazione stasera metti delle pietre miliari e fatti dei pali indicatori potremmo parlare del consiglio rivelato possiamo dare gloria a dio perché dio ci dà dei consigli fratelli ed è interessante notare che i consigli che dio ha non li tiene mai per sé ce li rivela per il nostro bene il consiglio è questo metti delle pietre miliari e fatti dei pali indicatori la spiegazione è presto spiegata al versetto 22 fino a quando te ne andrai vagabonda fino a quando il tuo cammino sarà un cammino a zonzo a destra e a sinistra mettiti mettiti dice qui il signore delle pietre miliari e fatti dei pali indicatori c'è l'urgenza pure indicata c'è l'urgenza indicata ritorna vergine di israele ritorna a queste città che sono tue e il fatto che non ritorni è perché hai perso l'orientamento ti mancano i pali indicatori c'è anche la necessità evidenziata ritorna vergine di israele fino a quando è una necessità fino a quando stai prolungando il tuo cammino disorientato e poi c'è l'azione suggerita metti chi tu metti delle pietre miliari e fatti chi tu fatti dei pali indicatori una versione dice così della bibbia pianta dei cippi i cippi sono dei piccoli muretti in pietra che noi troviamo sulla corleone prizzi a confine della strada a delimitare il chilometro no avete presente quei piccoli pilastrini di cemento con numero romano indica il chilometro fanno da confine quant'altro metti dei cippi metti dei pali indicatori sta bene attenta alla strada che hai percorso di odati dice rizzati dei pilieri poniti dei monti di pietra per insegne e poni benmente alla strada al cammino che hai fatto un'altra versione dice metti su dei cartelli segnali con la pietra concentra la tua mente sulla strada possiamo dire insieme signora aiutaci metti dei pali indicatori e metti delle pietre miliari fatti dei pali indicatori a tutti noi sarà capitato fratelli e sorelle di attraversare dei sentieri di montagna o no momenti di grande rilassatezza momenti di grande svago e alle volte anche una passeggiata sui monti e anche come dire un momento di grande emozione nel vedere la creazione divina ma tuttavia fratelli alle volte un cammino in un ambiente naturale sicuramente emozionante può trasformarsi in un'esperienza spaventosa in un'esperienza pericolosa se si perde l'orientamento se ci si perde in un bosco se ci si perde durante il tragitto in sentieri ecco perché se si perdono di vista le pietre miliari e i pali indicatori c'è il rischio di perdersi leggevo qualche tempo fa un articolo dove ogni anno si registrano numerosi escursionisti che vengono tratti in salvo proprio a motivo del fatto che si sono allontanati dai percorsi tracciati si sono allontanati dai sentieri segnati ci siete tutti stasera vogliamo dire insieme signora aiutami a non allontanarmi dai segni dai sentieri segnati signora aiutaci a non allontanarci dai sentieri tracciati dallo spirito santo per la nostra vita ecco che gli esperti suggeriscono ad esempio prima di imbarcarsi e di immettersi in un sentiero di montagna suggeriscono ad esempio di pianificare il percorso su una mappa individuare il sentiero controllare le previsioni meteo vi sto leggendo quello che ho riportato controllare e portarsi dietro un po di medicinale di primo soccorso una bussola un fischietto una corda cadi in un burrone usi il fischietto per suonare dare l'allarme una corda aperta ad un albero e scalare una torcia vestiti adeguati giacca impermeabile ma poi notate cosa dicono gli esperti prendete pure dei punti di riferimento ed evitate di allontanarvi dai sentieri battuti e dai sentieri disegnati lo spirito santo in mezzo a noi stasera lo spirito santo in mezzo a noi stasera e dice al mio al vostro cuore metti delle pietre miliari e fatti dei pali indicatori fino a quando te ne andrai vagabonda figlia infedele fino a quando ti sposterai nel cammino cristiano dal luogo ad un altro senza un programma senza una meta e continui a girovagare spesso nel cammino cristiano fratelli e nel nostro cammino di fede abbiamo registrato delle irregolarità il nostro procedere nella fede non è vero è stato incostante siamo stati infedeli discontinui ecco che Dio dirà a Giosuè solo si molto forte e coraggioso abbi cura di mettere in pratica tutta la legge che Mosè mio servo ti ha data non te ne sviare né a destra e né a sinistra affinché tu prospererai dovunque andrai possiamo dare gloria a Dio insieme e per mezzo di Isaia il Signore dirà al popolo quando andrete a destra e quando andrete a sinistra a causa della vostra carnalità debolezza le tue orecchie udranno dietro a te una voce che ti dirà questa è la via camminate per essa Signore stasera aiutaci che nessuno di noi perda la via ma vogliamo mettere su delle pietre miliari e vogliamo mettere su dei pali indicatori per non perdere la rotta per non perdere la fede per non perdere la grazia per non perdere il premio come abbiamo ascoltato domenica scorsa per non perdere la gara e per non perdere il cielo che Dio ha preparato per noi oggi la locuzione pietra miliare viene utilizzata anche per lo più in senso figurato per riferirsi ad un evento ad un fatto se prendete le vie romane le vie consolari romane la via appia per eccellenza scoprirete che sarà è piena di pietre miliari ma in effetti non sono altro che degli obelischi dei monumenti che sono stati eretti perché lì si è verificato una certa storia e quindi hanno costruito delle pietre miliari come punto storico di svolta di traguardo fondamentale nella nostra vita abbiamo tante pietre miliari la salvezza è stata una pietra miliare il battesimo nello spirito santo è stata per noi una pietra miliare un punto di riferimento no fratelli la guarigione fisica ottenuta qualche volta è stata come una pietra miliare che ci ha ricordato che Dio è ancora il guaritore e la salvezza ci ricorda oggi come punto di riferimento che Dio può salvare ancora ecco possiamo contare stasera sull'aiuto ancora del signore che ci dice io ti istruirò e ti insegnerò la via per la quale devi camminare ti consiglierò e avrò gli occhi su di te e la cosa bella è ricordare stasera che questa via è Gesù io sono la via la verità e la vita là sarà una strada maestra una via che sarà chiamata la via santa nessuno impuro vi passerà essa sarà per quelli soltanto quelli che la seguiranno anche gli insensati non potranno smarrirvi si fermatevi sulle vie guardate domandate quali siano i sentieri antichi dove sia la buona strada e incamminatevi per essa gloria a Dio e voi troverete riposo alle anime vostre ho steso tutto il giorno le mani verso un popolo ribelle che cammina per una via non buona seguendo i propri pensieri abbiamo bisogno stasera spero vi sia il vostro amen di punti di riferimento abbiamo bisogno di rimettere su le pietre miliari per non perdere la rotta abbiamo bisogno fratelli di nuovi pali indicatori che ci mantengono sul sentiero che porta alla vita eterna ci sono troppi credenti spesso che vivono una fede cristiana vagabonda una fede vagabonda una fede che approda su molti liti una fede non radicata fondata e disorientata incredula e debole noi stasera vogliamo una fede forte in cristo gesù c'è una storia interessante che vorrei ricordare a me a voi le parole che davide aveva dette furono riportate a saul che lo fece venire siamo nel combattimento tra i filistei e israele davide e goliat davide disse a saul nessuno si perde ad animo a motivo di costui il tuo servo andrà si batterà con quel filisteo saul disse a davide tu non puoi andare a batterti con quel filisteo perché tu non sei che è un ragazzo e quello è un guerriero fin dalla sua giovinezza mi state seguendo davide rispose a saul il tuo servo pascolava il gregge di suo padre e tra volta veniva un leone o un orso a portare via una pecora dal gregge allora io gli correvo dietro lo colpivo gli strappavo dalle fauci la preda e quello mi si rivoltava contro io lo afferravo per le mascelle lo ferivo e l'ammazzavo sì il tuo servo ha ucciso il leone e l'orso e questo incirconciso filisteo sarà come uno di quelli perché ha coperto di vergogna le schiere di israele davide soggiunse le pietre miliari di davide i pali indicatori di davide davide soggiunse il signore che mi liberò dalla zampa del leone dalla zampa dell'orso mi libererà anche dalla mano di questo filisteo saulo disse a davide va il signore sia con te io stasera voglio dare gloria a dio perché il signore possa aiutarci a rimettere su il palo indicatore della fedeltà del signore fratelli per noi la fedeltà di dio è un palo indicatore è una pietra miliare sulla quale vogliamo fissare il nostro sguardo spesso le prove ci confondono ci sviano ci disorientano e spesso la fede la visione delle cose diventa viene annichilita dobbiamo continuare a tenere presente che dio è fedele e colui che ci ha liberato dalla zampa del leone dell'orso ci libererà anche dal filisteo possiamo dare gloria a dio mettiti su delle pietre miliari fatti dei pali indicatori noi stasera vogliamo piantare un palo in questa comunità e vogliamo ricordarci attraverso questo palo figurato che dio è fedele e quando sopraggiungerà sopraggiungerà la prova la difficoltà guarderemo al palo indicatore all'insegna e lì vedremo che dio è lo stesso ieri oggi è in eterno e sarà ancora dalla nostra parte anima mia non dimenticare nessuno dei suoi benefici vogliamo dare gloria a dio per la sua fedeltà è per noi un palo indicatore ditemi la verità fratelli ma voi sareste qui stasera se dio non fosse stato fedele in verità vi dico se dio non fosse stato fedele non sarei qui stasera ma sono qui e siete qui perché dio è fedele e la sua fedeltà è stata come un insegna come un punto di riferimento una pietra miliare un palo indicatore per la mia e per la vostra vita e noi siamo qui per dargli l'ode gloria non soltanto il palo indicatore della fedeltà di dio ma il palo indicatore della provvidenza di dio quanti credono che dio è colui che vede e provvede è per noi la provvidenza di dio un palo indicatore giunsero al luogo che il signore gli aveva indicato abramo prese la legna prese l'olocausto genesi 22 ve lo ricordate questo passaggio storico prese la legna per l'olocausto la misa addosso ad isacco isacco parlò ad abramo padre eccomi ecco il fuoco e la legna ma dov'è l'agnello dell'olocausto abramo rispose figlio mio dio stesso lo provvederà l'agnello per l'olocausto e proseguirono tutti e due insieme prima di salire abramo disse una cosa e servi fermatevi qui io e il ragazzo andremo adoreremo e torneremo papà dov'è l'agnello dell'olocausto dio lo provvederà e quando abramo stava per scannare suo figlio la bibbia dice che dio gli dirà fermati abramo e abramo chiamò quel luogo jave i re per questo si dice oggi al monte del signore sarà provveduto e lo scrittore agli ebrei ci ricorderà che abramo era convinto che se anche si fosse spinto ad ucciderlo dio lo avrebbe risuscitato perché abramo aveva una pietra miliare un punto fermo nella sua vita ed era la provvidenza del signore fratello e sorella vogliamo anche noi stasera tenere presenti che dio è colui che vede e provvede per te la fedeltà di dio è un indicatore sorella fratello per te la provvidenza di dio è un palo indicatore è una pietra miliare e che puoi mettere nel tuo cammino per non perdere di vista il sentiero giusto metti il palo della fedeltà del signore per non sviarti metti il palo della provvidenza in modo tale da non sviarci e da rimanere nel sentiero che porta alla vita eterna il palo della fedeltà il palo indicatore della provvidenza e concludo il palo indicatore delle promesse di dio crediamo che dio è fedele alle promesse queste promesse non sono come delle pietre miliari per noi dei pali indicatori c'è un passaggio bellissimo nella bibbia la notte seguente il signore presentò si presentò a paolo e gli disse fatti coraggio perché come mi hai reso testimonianza di me a gerusalemme così bisogna che tu me la renda a Roma dopo qualche giorno si imbarcano quando fu deciso che noi salpassimo per l'italia ma poco dopo si scatenò una grande tempesta vi ricordate la storia biblica in atti 25 26 27 dopo che furono rimasti per lungo tempo senza mangiare palo si alzò in mezzo a loro e disse uomini bisognava darmi ascolto e non partire da creta per evitare questo pericolo e questa perdita ora però vi esorto a stare di buon cuore perché non vi sarà perdita della vita per nessuno di voi perché un angelo di dio mi è apparso e mi ha detto che nessuno di noi morirà perché la promessa di dio fatta a paolo era che doveva arrivare a Roma e quindi quella promessa in mezzo alla tempesta fu un palo indicatore fu una pietra miliare paolo non sarebbe morto perché quelle parole di dio risultavano per lui come un'insegna tremenda potente meravigliosa ti ha fatto dio delle promesse sorella se dio ti ha fatto delle promesse e tu sei ancora in mezzo la tempesta aggrappati a quel palo indicatore con tutto il cuore perché dio è fedele alle sue promesse ed egli le mantiene nonostante la triste evidenza del naufragio della tempesta paolo si aggrappò alle promesse del signore promesse che dio mantenne perché dio è fedele metti metti delle pietre miliari fatti dei pali indicatori fino a quando vivrai una vita da vagabonda o figliola infedele fino a quando la tua vita cristiana sarà una vita a zonzo a destra e a sinistra oggi in cielo domani sotto terra mettiti delle pietre miliari fatti dei pali indicatori fino a quando vagabonderai signore stasera vogliamo mettere delle pietre miliari e dei pali indicatori della tua fedeltà della tua provvidenza e delle tue promesse che per noi sono come dei pali che non ci faranno sviare chiediamo il capo preghiamo insieme gloria al signore adoriamo gesù tutti quanti alleluia alleluia gloria al signore gloria a dio adoriamo il signore insieme vi ringraziamo per aver scelto di ascoltare il programma dai nostri culti possa il messaggio glorioso della parola di dio trasformare la vostra vita e rendervi figli di dio vi aspettiamo ad una nostra riunione di culto presso la chiesa cristiana evangelica delle assemblee di dio in italia di prizzi via sandro pertini gli orari sono il martedì e il giovedì alle ore 20 la domenica alle ore 18 e 30 dio vi benedica